Ciao a tutti! In uno dei video precedenti, quando ho realizzato questa gufetta per un cake topper vi avevo promesso che avrei fatto un tutorial per mostrare come ho fatto questi gigli rosa tigrati quindi ho estratto quella parte del tutorial che riguarda i fiori e adesso ve la illustro io ho utilizzato il cernit number one bianco, quello che ha il 50% di trasparenza e quindi ho utilizzato una pasta che una volta cotta non sarà completamente bianco latte ma sarà a metà tra un bianco e un traslucido se non avete acquistato questa pasta, potete ottenere una miscela simile mescolando metà pasta bianca e metà pasta traslucida ho iniziato a modellare il fiore facendo una piccola pallina centrale qui vi potrete regolare voi con la grandezza del fiore a seconda di come lo utilizzerete perchè potete utilizzarlo anche per fare un ciondolo o degli orecchini io ho fatto una piccola pallina e l'ho schiacciata sul mio piano di lavoro in vetro poi ho iniziato a modellare i petali con una pallina delle stesse dimensioni allungata alle due estremità ho creato questa forma appuntita su tutti e due i lati e poi mettendola sul dito con l'ago buca perle sono andata a crearmi tutta una serie di scanalature ho preso poi il punteruolo, ho fatto pressione da uno dei due lati creando un incavo con la punta più grande del punteruolo ho posizionato il petalo sulla pallina e sono andata a spingerlo al centro con la punta più piccola del punteruolo ho ripetuto gli stessi passaggi per tutti gli altri petali lo scorso anno avevo fatto un tutorial simile a questo per realizzare delle orchidee che poi ho applicato su dei cabochon sia su dei cabochon in pasta polimerica sia su dei cabochon in vetro potete utilizzare questa tecnica per fare i fiori anche per applicarli ad esempio su delle pietre dure però poi una volta cotti dovrete scollarli staccarli, mettere una goccia di super attack e poi rincollarli sulle pietre per essere sicuri della tenuta comunque nello stesso modo come vedete ho realizzato altri due petali e li ho messi equidistanti rispetto al primo e questo è il primo strato del mio giglio adesso andrò a fare il secondo strato del mio giglio andrò a mettere quindi altri tre petali negli spazi che sono tra un petalo e l'altro di quelli messi precedentemente per ottenere proprio la forma tipica del giglio è importante mettere i petali secondo questo tipo di sovrapposizione e non mettere tutti quanti sei petali tutti di seguito adesso viene il momento della colorazione io ho scelto di fare la colorazione con dei colori acrilici metallizzati vi potete sbizzarrire anche con dei pigmenti stavolta ho deciso proprio di lavorare esclusivamente con la pittura per dare il colore a questi fiori in altri casi si può lavorare anche facendo delle murrine questo tipo di lavorazione però potete farla anche con altri tipi di pasta ad esempio con la pasta di mais o la pasta di zucchero lavorando sempre con una base di pasta bianca io sto utilizzando un acrilico metallizzato color rame che tende un pochino a rosso e l'ho posizionato in modo più accentuato sulle punte poi ho preso un colore acrilico sempre metallizzato di colore rosa e vado a sfumare le punte del petalo sempre dall'esterno verso l'interno poi per accompagnare di più questa sfumatura con il dito andrò un pochino a picchiettarla come vedete avendo creato precedentemente le scanalature il colore tenderà naturalmente a depositarsi di più nei punti dove ci sono le scanalature creando così il disegno sui petali del fiore poi visto che sto facendo dei gigli di grati rosa vado a mettere tutti quanti i puntini che sono tipici di questi fiori lavorando sempre con un pennello a punta molto sottile vado a fare tutta una serie di puntini se non avete un pennello con una punta così sottile potete provare a farlo con lo stuzzicadenti ma per fare questo tipo di lavorazione io comunque vi consiglio di acquistare questo tipo di pennellini che adesso si trovano anche molto facilmente perché sono commercializzati per la nail art come ultimo passaggio al centro del fiore ho dato alcune pennellate con il colore giallo sempre acrilico metallizzato ho sollevato il fiore con una lama l'ho applicato sulla mia miniatura in questo caso la gufetta ho perfezionato i fiori andando a dare un altro tocco di rosa sul bordo e poi ho cotto la creazione come vedete dopo la cottura l'effetto del fiore cambia perché la pasta bianca diventa al 50% traslucida e da questo effetto che secondo me è molto più naturale e inoltre la lucidatura attraverso la vernice lucida della Fimo a base d'acqua da molta lucentezza in più a questi fiori e accentua l'effetto dei colori perlati spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e che possa esservi utile magari per creare dei gioielli io adesso vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video ciao ciao